Piuttosto che una celebrazione della democrazia, le primarie sono state una resa dei conti. A dichiararlo è il centrodestra che oggi in una nota ha replicato al PD e in particolare al vincitore del balottaggio Cristian Fanesi. Come stanno le cose? Qual è la vostra opinione? Vedo che una delle prime preoccupazioni del candidato del centrosinistra è battere le destre, un po' che accomuna anche gli altri candidati. Io questo spauracchio sinceramente non lo vedo anche perché io non rappresento la destra, sono candidato dai partiti di centrodestra ma anche di tante liste civiche e di movimenti civici che mi stanno sostenendo in maniera importante. E anche della gente comune perché io dico sempre che la differenza a livello locale la fanno le persone piuttosto che i partiti. Detto questo non mi piace parlare male degli altri ma è un dato di fatto che il candidato scelto per tre voti dal centrosinistra con purtroppo una debacle su tutti i fronti perché meno mille persone rispetto a una settimana prima, meno duemila persone rispetto a dieci anni fa. Quindi è chiaro che un calo di consensi importante del centrosinistra che ha scelto alla fine il candidato forse peggiore che poteva scegliere perché è il candidato che sulla variante Gimarra ha fatto perdere alla città di Fano 20 milioni di euro. Il palazzetto dello sport che era stato promesso non è stato fatto. La situazione del porto è purtroppo commissariato il porto quindi è chiaro che questi sono solamente tre dei punti sulla quale questa amministrazione in particolar modo l'assessore vice sindaco Fanesi ha fallito. È chiaro che hanno scelto il meno peggio o quello che ritenevano più opportuno in base ai tre voti di scarto. A me non mi interessa sicuramente chi scegliano però portiamo il dibattito sulle proposte per la città piuttosto a votare contro l'uno o contro l'altro. Questo mi auspico in questi 50 giorni che avvenga. Avete ricordato anche la richiesta del PD a metà mandato di sostituire Fanesi? Sì è un dato di fatto che proprio lo stesso partito di cui è esponente Fanesi ha metà mandato visto il piano regolatore che non arrivava viste tutte queste cose che ho detto anche poc'anzi variante Gimarra, palazzetto dello sport, tutte le incompiute che abbiamo nella nostra città sono ereditate dalla gestione di Fanesi. Quindi il suo partito aveva chiesto le dimissioni. Questo non è avvenuto con un braccio di ferro all'interno di quel partito però è chiaro che il passato non si cancella. E questa sera in Consiglio Comunale continuerete a parlare del PRG? Sì purtroppo è un caso più unico che raro che questa amministrazione a dieci giorni dalla scadenza del Consiglio Comunale insiste nel portare le osservazioni al piano regolatore che comunque servirà un passaggio in provincia ma che verrà blindato per il prossimo sindaco. Quindi io mi auguro che ci sia uno scatto d'orgoglio del sindaco e della giunta, della maggioranza nel fermare e rinviare il piano regolatore dopo l'elezione. Lo dovrebbero più che altro non solo per il prossimo sindaco ma anche verso tutti i cittadini fanesi. La visione della città si fa al primo anno di governo, non al decimo anno di governo.